Che brutta persona che sei, con le salamandre anche. Bravissimo, Acqua Eructo mi piace. Ok. Azzo ragazzi, datemi la mano. Bravissimi, vai. No, Erry è morto, male. Fai come Erry, muori male, yeah. Aspetta un attimo che... Niente, continuiamo a morirci male ragazzi, perché sono proprio sopra... L'I.A. Ecco, spostati, spostati, Erry, spostati. E niente, continuiamo a morir male. Va bene, va bene, Erry, continuiamo a morir male. Se il gioco decidesse anche di darmi una mano... Grazie. Però se prendi quello lì... No, non quello... Allora, non quello lì. Esatto, questo, grazie. Oh, finalmente, uno in meno. No, via, via, via. Perfetto, via, via, via. Pensi che l'ho visti proprio che lanciavano. Tutte e due. Ok. No, via, via, via. Allora, quello lì fa acqua e eructo, va bene. No, via, 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 via del tutto, via del tutto. Ok. No, dai. Che due marrons. Bravissimi, ragazzi, bravissimi. Sì, datemi la mano, su. Bravissimi, ok. Ok, spacchiamo questo qua. E siamo a posto anche con questo, almeno. Ok. Perfettissimo, ragazzi. Allora, qua abbiamo fatto anche questo pezzo qua che non guasta. Andiamo di qua. Ci sono cose che non abbiamo fatto. No, intanto là ci sono caramelle a palla, quindi sicuramente... Ok, l'abbiamo fatto. Per fortuna non moriamo in questo gioco qua, però non è semplice comunque, ragazzi. Per niente. Vi giuro. Allora, speduto un po'. Qua tecnicamente... Allora, no, non riesco. La cosa bella dell'IA, quando tipo si incampa da sola. Eh, sono le cose belle della vita queste qua. Voi non lo sapete, ma sono le cose belle della vita. Ecco. Volevo spaccare quei funghi. Riesci? Vediamo. No. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che ero riuscito. Ok, l'abbiamo spaccato un pezzo, almeno. Ok. Così non va indietro. Non so perché. Là però ci eravamo quasi arrivati. Sì, il problema è che qua è proprio complicato lanciarlo. Questo qui è difficilissimo lanciarlo. Cioè, va troppo vicino, praticamente. Volevo spaccare anche questi, ma non riesco a spaccarli. Ok. Aspetta un po'. Forse probabilmente possiamo fare anche così. Fa un po' vedere dove arriva questo. Potrebbe arrivarci, sapete, fino da giù. Andiamo un po'. Riesco a farlo? Sì? Vai. No, si rompe la dela davanti. Vabbè. Quindi, allora. Questo qui arriva fin lì. Che si univa qua, praticamente. E non arrivavamo da qua. Perfetto. Qua, lì c'è l'affare. Qua, altra roba? Qua, niente? Volevo un po' vedere se c'è altro qua. Mi zica. Allora, qua c'è un altro scudo. Tre maghi. Qua direi che non c'è nient'altro. Ok. Per arrivare a questo scudo, però, ci sono i funghi. Quindi, come facciamo? Ok. No, beh. In realtà, è abbastanza fattibile anche far questo. Ma sul serio? Vai. Ok. No, dai. Ce l'avevo fatta. Perché? Perfetto. Ron, spostati di lì, ti prego. Ecco, bravo, Ron. Vedo che hai capito che ti devi togliere dalle balette. Ok. Vai. E anche questo è posto. Eh, eh. Volevi. E invece? E invece? Tac, tac. No, è più, è più, è più. Eh, ma... Ermione, se ti sposti, magari, la butto lì. Potrebbe essere una cosa positiva. No. Rimani lì. Fatti... Fatti ammazzare direttamente, cioè. Due di vita. Cioè, vi rendete conto che... Continua ad essere con due di vita, Ermione? Mi fa ridere. Aspettate qua. Ecco, vabbè. Se non muoio anche io, però... Vabbè, Ermione, muori. Va bene, ok. Capito. Ok, qua è da dove eravamo arrivati prima. Non so perché Ron ha deciso di fare Carpere Tractum, ma va bene. Aspettate che qua niente non mi ha dato a prendere. Ah, ok. Ho trovato adesso i funghi. Un fungo ho trovato. Merda. Ci ho fatto caso però adesso, ragazzi. Quindi non so se in realtà le ho preso tutti i funghi o meno. Ok, questo potrebbe essere un problema perché l'ho visto adesso i funghi come sono messi, quelli che dobbiamo prendere. Vediamo se ce ne sono altri che hanno cliccato, di funghi. Sì, uno qua. Due. Perfetto. Quanti erano più? Cinque, giusto? Funghi sì, cinque sono, ok. Spero che non fossero più indietro. Adesso, al massimo, provo ad andare più indietro, ragazzi. Vi taglio sto pezzo. Eventualmente. E vado a vedere un secondo se più indietro ce ne sono. Perché magari sono io che me ne sono persi. Facile. Facilissimo che me ne sono persi io. Allora. Più che altro è che devi proprio vederli, sti funghetti, perché altrimenti non ci fai caso. E' quello il problema principale. Sono funghi piccolini e particolari, che se non li vedi proprio, c'è buone. Ecco. Qua funghi, non ce ne sono di quel tipo lì. Può darsi anche che fossero direttamente in quel punto lì dove eravamo prima. Non è detto per forza che li troviamo più indietro, però. Ma veramente è buggato sto pezzo? Ma porco tu. Ok. I bug balli della vita sono questi qua. Eh, lo stiamo facendo, presto. Ok, datemi la mano ragazzi. Bravissimi. Bravissimi. Ok. Sì, lo so, voi volete andare avanti, ma io voglio vedere un secondo indietro. Facciamo fuori anche queste. Ok. Ma forse c'erano anche dei nemici che abbiamo lasciato indietro, probabilmente. Ma scusate, cos'è che hanno colpito loro? Mamma mia, i bug di sto gioco. Ovviamente è buggato a dismisura. Io non so come fanno a fare dei giochi così buggati. Via, 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 vai, vai, vai. No, niente, non riesce. Allora, giù di qua non c'era in effettiva niente. Non vedo altri... Altri non ne vedo, in effetti. Guarda dove eravamo arrivati prima. E in giù di qua neanche, ok. No, no, mi sa che i funghi erano proprio da laggiù che partivano. Ok, niente, allora possiamo tornare tranquilli. Che caspita succede? Vabbè. Ok, torniamocene da giù, allora. Tanto qua funghetti, no, altri funghetti non ce ne sono. Abbiamo già fatto tutte le cose. Io ho ho. Bella, io ho ho, è bellissima. Ok, qua tante le cose abbiamo già fatte tutte, perfettissimo. Se Harry volesse correre mi fa un piacere. Forse, forse. Ok. Eh, oh. Ni ha ha. Beh, ma gli altri... Allora, ragazzi, a parte che... Veramente, ragazzi, l'IA sta facendo veramente schifio su questo gioco qua. Però vabbè. Detto questo. Eh, ciò che volevo dirvi, ragazzi, è che allora, indietro funghi non ce ne sono. Quindi non abbiamo lasciato nessun di fungo indietro. Quindi tranquilli, che non abbiamo lasciato niente. Ora, vediamo qua se c'è qualcos'altro. No, direi che non c'è nient'altro qua. Cioè, non vedo nient'altro. Non vedo da fare. Funghi non ne vedo neanche qua. Quindi pensa che possiamo andare alla prossima area, direi. Sì, sì, sì. Andiamo alla prossima area. Che immagino di dover aprire, esatto, così. Immaginavo. Ok. Ottimo lancio, grazie. Ok, aspetta. Aspetta. Ci sono questi qua da colpire così, con l'acqua rotto. Bella lì. Oh, adesso è un po' più tranquillo, laggiare il gioco. Perfetto, ragazzi. Riesco un po' più facilmente a fare anche le cose, volendo. Ottimo, ottimo. Proprio ciò che volevo. Allora, così almeno siamo un po' più... Tranquilli, e via. Allora, di qua c'è roba, no. Attirare le ricompense, sì, lo so che devo attirarle, ragione. E vai. Un altro scudo, ne mancano ancora tre. Vorrei trovare anche la figurina elusiva, lì, come si chiama, che non mi dispiacerebbe. Però, boh, adesso vediamo. Ok. Tanto questi qua si buttano giù, easy, 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 proprio, ragazzi. Probabilmente sto video qua ve lo dividerò in due. Probabilmente. L'acqua è proprio... Oh, cavolo. Aspettate. Ragazzi, se volete darmi una mano, quando volete, tranquilli. Potete darmela, se volete. Ok, Harry mi spiegherà prima o poi perché non corre. Qua è SSS. Vai, vai, così. Perfettissimo. Casino qua, qua casino, ragazzi. Qua c'è casino. Yeah. Grandissimi. E questo, mo'? Questo che caspita ha? Cos'è quello affare lì? Fermi tutti, che ho visto quello affare lì, mi sono un po' cacato in mano. Da dietro. Ah, ok. Dobbiamo lanciare i colpi da dietro, lo scorpoide. Scorpioide. 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 Sì, detto giusto. Ok, ragazzi, allora. Andiamo. Ah, ok. Forse ho capito. Fermi. Hm, quasi. Potrebbe essere interessante. Forse riusciamo ancora a farlo. Aspetta. Eh, va troppo poco avanti, ragazzi. Quindi mi sa tanto che dovremo per forza fare combattimento. Fight. Aspetta. Vincardium Leviosa! Acqua eructo! Acqua eructo! Avivor! Ok. Grandissimi, ragazzi, grandissimi. No! Non volevo però finirlo subito, vabbè. Ok, qua abbiamo fatto un po' di cose, però non l'abbiamo in realtà completato al 100%, ragazzi. Incantatore, ottimo. Abbiamo fatto anche un avanzamento. Sì, però qua non capisco il perché. Allora. 3 di 5 funghi. 2 di 5 stati di drago. Non c'è un'altra roba. Cioè, dove dovevo andare, scusate? Attenzione. Che succede? Harry decise di mettere in guardia Cedric sulla prima prova del 3 maghi. Eh già. Draghi, è questa la prima prova. Ne abbiamo uno a testa. Che faccia che sia Cedric, ragazzi? Attenzione. Allora. Ragazzi, io vi dico. Al momento, io staccherei qua il video. Però, continuo a registrare. Faccio di nuovo la foresta proibita per conto mio, senza che voi la vediate. E vedo un secondo ciò che manca, diciamo, di questa prova. Perché mi sorge il dubbio che alcune cose non le ho fatte a questi punti. Perché? A questi punti, tutte le cose... Cioè, boh. Vabbè, ci ragiono un attimino. Quindi, ragazzi, vi ringrazio ancora. Ci vediamo alla prossima. Grazie ancora e alla prossima. Ciao, belli! Mi raccomando, iscrivetevi e mettete un mi piace. Ciao, ciao! Allora, ragazzi, faccio un mini extra, diciamo. Allora, come vedete, eravamo qua. Che qua poi si saliva, eccetera. Noi, prima, non siamo andati a... ...cliccare su questo. Su questo... ...su questo qua non abbiamo proprio cliccato. Che era il quarto, infatti. Ecco qua. E quindi questa strada qua non l'abbiamo proprio fatta. Cioè, è tutta una parte che non abbiamo fatto, mi sa tanto, del gioco. Adesso vediamo. Perché me l'ha segnato come quarto. Noi prima li abbiamo presi solo tre, quindi... E infatti, ecco l'ha segnato. Attenzione! Ok. Aspettate che non riesco a farlo bene. Attenzione! Ok. L'abbiamo preso proprio malissimo. E qua quindi c'è un altro di questi qua, ce n'era. Ok. Allora. Intanto vediamo un secondo dove dobbiamo andare. Intanto togliamo anche questo. E un altro scudo, come vedete, l'abbiamo preso. Perfettissimo. Quindi se si torna indietro, secondo me, ne troveremo anche altri, ragazzi. Ancora da prendere. Probabilmente sono cose che mi sono sfuggite nel video prima. Nei video prima, anzi. Che tanto saranno più di uno. Grazie, ragazzi. Adesso lo fate. Grazie. Ok, togliamo anche questi qua. Non riesce, eh? Perché naturalmente i miei compagni non ci sono. Vai. Qua là se lo prendo e finisco direttamente, quindi non mi sembra il caso. Vedete che però ci sono tutte queste piante. Non vorrei che servissero per qualcosa tutte quelle piante. Ottimo lancio. Via. Via, 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 via. Ok. Ok, via, 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 via. Perfettissimo. E siamo riusciti a uscire anche di qua. Qua probabilmente è un'altra di quelle cose che si sbloccheranno con un altro potere che non abbiamo ancora appunto trovato. Vedete che ci sono un casino di bozzoli. Secondo me li sblocchiamo con qualche altro potere. Qua non possiamo andarci. Infatti là sopra vedete che non possiamo ancora andarci. Probabilmente perché qua dovremmo appunto sbloccato da sta parte qua. Ma questi poteri qua li sbloccheremo molto più avanti, mi sorge il dubbio. Allora, adesso guardo un secondo. Torno indietro un attimo ancora, ragazzi. Vedo se c'è dell'altro da fare. Altrimenti prendiamo quello scudo lì e siamo arrivati a nuove scudi, tecnicamente. Allora, ragazzi. Come vi avevo già detto. Quando ho fatto il video dell'altro mi ero dimenticato di prendere questo scudo. Quindi lo prendo subitissimo. E concludiamo così un altro, sempre il livello, diciamo, quello sempre della foresta. Questo qui l'abbiamo già fatto. Questa parte qua mi sembra che ci siamo stati. Aspettate un attimo che vediamo, ma dovremmo esserci stati, tecnicamente. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Sì, qua ci siamo stati sicuro. No, non ci siamo stati da questa parte, invece. Attenzione, ragazzi. Qua c'è l'ungaro spinato, veramente? Wow, 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 parliamone, ragazzi. Wow, 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 via, 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 via. Che caspita. Ahia, questo faceva male? No, dai. Vabbè, se colpiscerò un amen. Ok, ma io vorrei prendere l'altro. Ce lo facciamo? No, eh. Vai, vai, vai. Lancio combinato, ho fatto bene. Io... È bellissima. Ok. Vabbè, ci continuano col tirare, ragazzi, che vi devo dire. Vai. Ok. È morto male, Harry. Però, ragazzi, a me non riesco a finire questo pezzo qua. Se Ron si muove, anche lui a far le cose. Grazie, Ron. Prima che ci ammazzi del tutto, Harry, ce lo facciamo? Ok. Taglie, taglie, taglie. Togli quest'ultimo pezzo di fuoco. Vabbè, Ron si è messo proprio davanti. Ci fa anche un po' ridere, sinceramente, Ron, che si è messo proprio davanti. Ok. Allora, qua c'è uno scudo e abbiamo trovato il decimo. Lì, abbiamo trovato il quarto. Su di qua non si può andare. No, a quanto pare non si può andare su di qua. Ok. Quindi, ci ne manca ancora uno. Allora, qua potremmo tecnicamente finire la parte del gioco. Proprio tranquilli. Potremmo finirla. Però, boh. In realtà qua di scudi ce ne sono ancora parecchi da prendere. Ci facciamo, ragazzi, a prenderli senza distruggerci molto, no? Ok, dai, dai, ragazzi, dai, ragazzi. Dai, facciamo il lancio combinato. E via. Niente. Harry, c'è proprio... Gli piace tantissimo all'ungoro spinato, Harry, eh? Attenzione. Attenzione. Quindi, se io faccio così... No, sono morta male. Sono morta male, io pedo. Qua continua a metterci il fuoco, il... Lungoro spinato. Non va bene. Eh, vabbè, però. Colpisci Harry, non colpisci male. No, colpisci a me adesso, deciso di colpire mai. Ascolta, CC, hai un po' rotto le palle, però. Possiamo colpirti male noi? No. Ok, perfetto. Finché colpisci Harry, va bene. Dobbiamo riuscire un po' a pulire qua davanti. Per riuscire a prendere il... Lo scudo. Se riusciamo a prendere lo scudo. In realtà potrei anche far così io, semplicemente. Aspettate. Eh, no, continua a darci fuoco. È quello che è casino. Se non ci dà una mano... Ron, ti prego, muoviti anche te, cazzarona. Su, Ron. Su, Ron. Bravissimo. Due su tre potrebbe anche andar bene. Daglio, daglio, daglio. Intanto Harry continua a perdere caramelle e morirci male, soprattutto. Cosa cazzo la sto facendo? Vai. Qua dobbiamo per forza togliere tutto il fuoco. Sì, ma ho fatto forse una cavolatissima proprio a far cos'è. Cioè, è stata veramente una cavolata quello che ho appena fatto, ragazzi. Sì, lancio combinato. Sono contento pure io. Però faccio... Finiamolo almeno di toglierci st'acqua. Ok. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Allora fa' apposta, però. Ragazzi, lo fa' apposta il... A quanto pare lungaro spinato. Non ci fa passare. Cioè, non so come fare... Se non ci fa passare. Continua a dar fuoco ovunque e non riesco a passare. Ormai Harry lo ammazza come niente, in continuazione. Dobbiamo vedere se per caso riusciamo a completarlo. Non lo so, eh. Ci provo a vedere. Ecco, così, esatto. Bravo, bravo, bravo. Va' facendo così, potremmo anche farcela. Eh, porca puttana. Buggato il gioco a merda. Dai, su, su. Forza, forza. Cioè, io qua praticamente sono buggato, ragazzi. Cioè, fino a che non finisco di pulire tutto il pezzo di acqua, non posso andare avanti. Ce la facciamo? Non ce la faremo mai. Ok, niente. Non ce la facciamo? Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, non ci credo. Non ci credo che siamo riusciti a farcela, non ci credo. Ok. Quindi sto pezzo va benissimo. Eh, qua ce ne sono parecchi di cose da fare. Sì, questa qua dobbiamo metterla a fila giù per me farlo arrivare. Lo facciamo così e chiudiamo lo schema. Uno dei tanti. Ok. Ah, mi manca solamente una cosa sola. Esatto, un fungo. E una statua di drago. Vabbè. Vabbè. Però anche qua siamo riusciti a prenderci tanto un altro scudo. Vai via. Vabbè. E tu aspetta.